poveri taglioti e gongola hanno accettato poteri forti toscano è perché si è messo con le manna ma la prova è questa ragazzi gli dedicano anche articoloni in prime pagine arrivano i rosso bruni o ragazzi non lo dico io eh lo dice chi? Il Corriere della Sera o quello che tanto disprezza il nostro amico toscano però poi quando gli fanno gli articoli è tutto gongola 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 arrivano i rosso bruni e parla qua il 26 novembre nascerà il partito degli indipendenti addirittura gli dedica un link del partito con tutti i dettagli no? Così chiamati per distinguersi da noi che siamo pieni di divide ed impera oh ci ha spiegato Toscano cos'è il divide ed impera per anni e adesso lo sta attuando lui divide ed impera no? Gramellini parla loro e noi ok? allora basta che ci sia un divide ed impera no? Poi non importa chi sia l'altro basta che sia che noi vi mettiamo sul giornale eh sul Corriere facciamo un bel articolo sul Corriere vi diamo alle manno e poi voi che fa parte Meloni eccetera e poi voi sarete riconoscenti una volta sempre che prendete Monio Vada alla cultura Elena Basile agli esti agli esteri Marco Rizzo ministro dell'economia già loro si vedano ministri e gongola prenderanno delle scoppelle in faccia Marco Rizzo ministro dell'economia ve lo immaginate Marco Rizzo ministro dell'economia va beh il ritorno alla lira altra cazzata una grossissima cazzata inattuabile in questo purtroppo e non è che non è che dire la verità ragazzi vuol dire essere dalla parte di quelli io dico che ritorno alla lira purtroppo non si può fare non si può fare ci distruggerebbero altro che ci ammazzerebbero non si può più fare o ci opponevamo ai tempi e allora aveva un senso o dire adesso il ritorno alla lira è pura propaganda è pura propaganda l'Italia è la settima potenza al mondo non siamo un enclave non siamo la Svizzera non siamo non siamo quello noi dobbiamo esportare i prodotti ci ammazzerebbero ma questi però pur di salire sul carro dei vincitori ripeto si poteva dire un tempo no? E il destro destro Gianni Alemanno premier forte forte col delega alle interne è l'amministrazione delle città si è visto come amministrato Roma e il poveretto il poveretto come te la passi che schifo Gramellini e Toscanello non parliamo di Ale magna magna mamma mia hai ragione nel momento niente lira neanche per suonarci i funerali ma vi rendete conto di come vi prendono in giro con con i nostalgici no? Loro raccredano di prendere i voti di tutti i nostalgici e i poveri taglioti ci cascheranno ancora perché l'italiota meno si è visto con la meloni io ve lo dicevo già non votate la meloni ma tutti in danni contro c'era lì quella che va sempre su visione tv la dottoressa De Mari che ha detto votate la meloni è la meno peggio su visione tv andava a dire queste cose andate a votare la meloni ora ora salta me alle manno di cui quei cattivoni ne dedicano una pagina intera guardate quanto ne scrivono guardate sulla sul corriere sul corriere della sera eh gramellini caffè fa tutto gramellini fa tutto un articolone da spazio a toscano ma perché perché il divide lì pensate veramente che se loro pensassero che sono pericolosi questi gli darebbero spazio su quegli indottrinati del corriere della sera non gli darebbero nessuno spazio guarda che molti si sono ribellati si si sono ribellati in un certo gramellini pagato dal corriere si è ribellato cioè ora fatemi ridere ma di che cosa stiamo parlando di che cosa toscano è uno che ha litigato con tutti con i suoi amici ha litigato pure con con quell'altro filosofo lì ora non mi confusaro litiga con tutti e vuole farci credere che lui ci porterà alla vittoria non esiste l'unica non votare non votare nessuno è veramente andare in piazza perché di cosa ha paura di cosa ha paura Salvini che era l'amico di di l'amico di Alemanno che voglio mettere adesso Alemanno ho fatto un video poi ce la fa poco diceva votate Salvini come premier e ora lo mette l'unica cosa che hanno paura è degli scopi degli scioperi hanno capito fino a me sì sì hanno capito lo diceva anche il pappalato sciopero generale a sciopero generale ma sì ma bisogna farlo per una settimana un mese allora questi cialtroni se ne vanno via questi pensano all'europei pensano all'europei cioè pensano all'europei parlano di lira ma vi rendete conto di come ci prenda poi si dicono e noi dall'interno cambieremo sì perché ora arriva l'italiano in Europa che contiamo il 10 per cento e cambiamo l'Europa cosa vuoi cambiare guarda la melone che a fine ha fatto vi prendono in giro a loro interessa la poltrona dell'Europa quella sì ti interessa tanto gli interessa tanto e si alleano anche con gramellini dicono faccio un bel articolo ne faremo prenderemo vuoti almeno prendiamo il dissenso se no qua all'europei non prendano neanche l'un per cento neanche l'un per cento tutti i politici e se invece cercano di prendere quelli che non vanno più a votare avranno la solita scusa beh ci hanno votato il 20 il 30 per cento siamo legittimati questo toscano e rizzo non ve lo dicono o rizzo era quello che diceva l'Europa non si può cambiare è un treno in corsa lo diceva lui è si può cambiare l'Europa è un treno in corsa e tu puoi al massimo colorare ma ormai la corsa è quella lo diceva lui andate a vedere se non ci credete rizzo diceva che l'Europa non si può cambiare però adesso si vuole fare eleggere per le europee perché se non si può cambiare e lo dicevi te perché la poltroncina a 10 mila euro al mese fa comodo a tanti vero o no ma questo lo dice il cervello se tu dici che non si può cambiare l'Europa cosa vuoi andare in Europa a fare se non hai detto tu che non si può cambiare l'Europa un treno in corsa ok perché ci vuoi andare per star lì nel gruppo questa è logica quindi continuate a creare Toscano che viene dato spazio su la Repubblica la Repubblica parlano di Alemanno gli danno il inca addirittura il partito degli interdependenti altro articolone sempre sul Corriere della Sera da Alemanno a Rizzo gli danno tutti tutti gli spazi possibili e il dividere perché dicono a me prendiamo voti anche dei poveri taglioti che crederanno a quest'altra cosa tanto i politici vanno avanti guardate che articolone tanto di prima pagina Rizzo e Toscano regungola e fa le live su Gramellini parlandoci male tanto ti fa la live e ti fa pulista e tu sei tanto contento sei andato anche alla sette sei andato dovunque puoi andare poi mi ricordo che pur di stare a far parte di questo il bel Toscano andò alla camera con la con la cosa in faccia quindi si era già abbassato alle loro idee era andato con la cosa in faccia per parlare alla camera e questi dovrebbero difendervi ancora non è entrato già si adattava poveretti poveri tagliotti se non capite che il treno in corsa non si cambierà più l'unica è dalla base non la mandando i politici una volta che entrano lì dentro ciao 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 o siamo tutti noi popolo ok o quelli faranno i loro comodi ma come fate a non capirlo e 50 anni che funziona così ma si figura quell'altro scappato di casa stefano lascialo perdere tutti che pensano ai soldi o alla fama me non mi frega niente io penso a un mondo migliore veramente ma se non è il popolo alla base che si ribella se aspettate il leader fantomatico che fa gli affari tuoi povero te ciao italiani ciao itagliotti grazie 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 grazie